A che cosa serve il testosterone bioidentico naturale nelle donne? Benvenuti, sono dottor Claudio Tomella, medico, specialista in nutrizione e medicina anti-aging e oggi rispondo a questa domanda. Il testosterone è considerato l'ormone maschile per eccellenza. Quando un uomo è virile, muscoloso, deciso, spregiudicato, si dice che è testosteroneico. In realtà anche le donne producono il testosterone, sebbene abbiano livelli circa 10 volte più bassi rispetto agli uomini e anche nelle donne il testosterone svolge fondamentali funzioni biologiche. Può migliorare l'energia, il benessere psicofisico nella donna in menopausa, questo è quello che evidenziano gli studi, ma è importante anche per la sessualità, la composizione corporea, l'anabolismo di muscoli ossa, la ricollizione glicemica, il profilo lipidico, la memoria e la capacità di apprendimento. Anche se i livelli di testosterone sono più bassi nella donna, in qualche modo le azioni che svolge sono molto simili a quelle dell'uomo. Nelle donne di età compresa fra i 20 e i 50 anni, si verifica una riduzione del 30% dei livelli di testosterone progressivamente. Nella donna il testosterone a livelli massimi è intorno ai 18-20 anni, quindi quando il desiderio sessuale è più elevato. A 50 anni si è ridotto circa del 50% e anche dell'80% se la donna ha subito un intervento che ha previsto l'asportazione delle ovaie ed è stata magari sottoposta ad una chemioterapia, quindi con conseguente menopausa chirurgica. Nella donna aumenta spontaneamente il testosterone in fase ovulatoria, quindi per renderla più disponibile all'avanza dell'uomo e per aumentare quindi la possibilità di concepimento. La donna ricca di testosterone è comunque una donna diciamo decisa, che tende un po' a dominare il partner e ha una libido molto più alta e sviluppata rispetto alle donne che hanno livelli più bassi. Le azioni principali del testosterone quindi sono quelle per cui può determinare un aumento dell'energia, della resistenza, dell'efficienza fisica. È un tonico psicofisico ottimo, serve proprio anche per l'ottimismo, per l'euforia e quindi per avere un po' una visione positiva della vita, per l'autostima, per l'assertività. Migliora di per sé la funzione cerebrare, la memoria, aumenta naturalmente il desidero sessuale, la dibido, dà responsabilità agli stimoli sessuali, in particolari ai ferormoni. È naturalmente importante per quanto riguarda l'anabolismo, quindi la massa muscolare, la massa ossea, favorisce la crescita dei peri, aumenta inoltre questo assolutamente importante, l'ematopoiesi, quindi la sintesi di emoglobina, ma è assolutamente importante anche per il sistema immunitario e per la regolazione glicemica. Questi sono assolutamente fattori importanti. Quindi sintomi e segni di carenza di DEA nella donna sono quelli che partono dalla sessualità, quindi riduzione del desiderio, della libido e dell'orgasmo, ma anche proprio a livello locale, l'atrofia vulvare. Altri sintomi molto importanti e che non sempre vengono ricondotti al testosterone sono proprio la stanchezza costante e magari accentuata dopo l'esercizio fisico. Si avrà poi perdita di massa muscolare, debolezza muscolare, perdita di massa ossea, ma anche una diminuzione del tono dell'umore, e quindi sarà più facile che si sviluppi depressione, ma anche ansia e perdita di autostima personale. Non dimentichiamo che poi il testosterone ha importante azione anche sulla pelle, sullo skin aging, quindi anche le rughe, piccole rughe intorno al volto, piuttosto che le rughe intorno agli occhi. Viene inoltre favorita in carenza di progesterone la cellulite. Ecco, quindi i motivi, le aree per cui è più importante l'integrazione nella donna in meno pausa sono proprio questi, quindi l'area della sessualità, l'area dell'energia. Le aree su cui lavorare sono quindi quelle della sessualità. Approfondisco questo in un video dedicato, ma non posso condividere con voi il fatto che molte delle donne che vengono nel mio studio riportano come sintomo quello del deficit del desiderio o dell'adibido. Per qualcuno è un problema grosso, quindi il motivo della visita, per altre meno, però è sicuramente un sintomo di accompagnamento della menopausa molto frequente. Per quanto riguarda poi l'energia, il testosterone gioca pure un ruolo assolutamente inaspettato, quindi il calo dell'energia è proprio uno dei sintomi più importanti del calo della menopausa. Può essere legato a tanti ormoni sessuali, tra cui estrogeni e progesterone, ma anche al testosterone. Non ci si pensa, in Italia non avviene l'integrazione con il testosterone per il calo dell'energia della donna. E quindi questo è un aspetto invece che è molto importante. Altro aspetto, le donne di oggi tendono più ad avere una vita, mi viene da dire, stressante a 360 gradi, quindi famiglia, lavoro, relazioni, e tutto questo può determinare degli squilibri ormonali che si sommano a quelli della menopausa. E in particolare anche precocemente, quindi anche nella donna giovane di 35-40 anni, può determinare lo stress, il cosiddetto furto del pregnenolone, Tradotto, c'è un'eccessiva necessità utilizzo di cortisolo, l'ormone che serve per combattere lo stress, e il fatto che la sintesi di cortisolo sia favorita da queste condizioni dell'ambiente, dalle condizioni esterne, fa sì che ci sia una carenza di altri ormoni che derivano dalla stessa origine, quindi dagli stessi precursori. Questa condizione si chiama furto del pregnenolone. E quindi le donne si trovano ad avere le menstruazioni che scompaiono, quindi la menorrea, e a una netta riduzione del desiderio sessuale. Quindi in questo caso la cura non è solo, diciamo, la sostituzione, l'integrazione, la modulazione con testosterone, ma dovrà essere una cura a 360 gradi sullo stress, quindi lavorando su questo veramente a tutto tondo. Per saperne di più, potete scaricare il mio e-book gratuito, tutto sugli ormoni bioidentici. Grazie. 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 Grazie.